L'esegno 3 dicembre 2017. Un ragazzo fotografa il paesaggio col suo telefonino. Non si accorge però che nello scatto viene catturato qualcosa di anomalo. Ecco l'immagine. Si può notare nel centro un punto luminoso, che ingrandito mostra una piccola sfera. Il primo pensiero è che si possa trattare di un riflesso, visto che la ripresa è contro il sole. Ma non sembra. Potrebbe essere una goccia d'acqua incaduta, ma la forma è troppo tonda. Neanche condensa sull'obiettivo perché sfocherebbe gran parte dell'immagine. Ma allora che cosa è? Facendo un po' di ricerche in rete, si possono trovare avvistamenti simili. Ma nel nostro caso ce ne siamo accorti solamente dopo lo scatto. Quindi non siamo sicuri, che sia realmente un oggetto in cielo. A questo punto abbiamo pensato di mandarla ad esaminare. A questo punto abbiamo pensato di mandarla ad esaminare.